Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Continua il corso introduttivo ad Adobe After Effects E oggi parleremo di un concetto importantissimo per chiunque abbia intenzione di iniziare a muovere i primi passi con questo software Parleremo del punto di ancoraggio Cos'è? Molto semplice, guardate il concetto di per sé è molto semplice ma è molto potente Ed è bene comprenderlo fin da subito Nelle scorse lezioni abbiamo visto come si ruota un oggetto Quindi selezioniamo il livello che vogliamo ruotare Premiamo il tasto R sulla nostra tastiera Compare la proprietà rotazione e posso ruotare l'oggetto Ok, direte voi, non c'è niente di strano Ma ipotizziamo che io abbia intenzione di ruotare questo foglio di carta Non dal suo punto centrale ma dal suo angolo È un po' come se io andassi a, faccio vedere un'animazione così che possiate comprendere meglio quello che voglio dire È come se io andassi a mettere un dito sul foglio e volessi ruotarlo Facendo in modo che il punto in cui vado a mettere il dito sia il cardine, il pivot, il punto di ancoraggio appunto della rotazione del mio foglio Devo, oppure un altro esempio, voglio spostare il mio dito, mettere un altro punto del foglio e ruotare il foglio Facendo in modo che il mio dito sia il centro di quel foglio Bene, in After Effects per scegliere qual è il punto intorno a cui applicare una rotazione Si utilizza quello che viene chiamato punto di ancoraggio Ripristiniamo il livello di prima, quello vuoto Eccolo qui Chiaramente andiamo a togliere il dito perché in questo momento non vogliamo vedere il mio dito Togliamo anche il... ecco qua Vi ho fatto già vedere una piccolissima animazione in After Effects Non vi preoccupate, impareremo a fare queste cose che sono molto semplici ovviamente Ma tra qualche lezione faremo anche noi qualche animazione molto basica Ok, dicevo, questo è il mio foglio No, è questo qui, eccolo qui È il mio foglio E come potete vedere al centro di questo mio foglio Ho un cerchietto Eccolo qui Questo è il punto di ancoraggio Intorno a cui, se vado ad applicare la rotazione, appunto la rotazione viene applicata Perfetto Come si fa a gestire questo punto di ancoraggio? Come fa già a spostare questo punto di ancoraggio? È molto semplice Basta premere il tasto A sulla vostra tastiera E vi compare la proprietà punto di ancoraggio Un piccolo reminder dalle lezioni precedenti Se io ovviamente vado ad espandere tutte le proprietà di trasformazione del livello Troverò come primo elemento il punto di ancoraggio Abbiamo visto che premendo alcuni tasti sulla nostra tastiera Possiamo isolare le singole proprietà Ecco, premendo il tasto A Vado a visualizzare solo il punto di ancoraggio Il punto di ancoraggio, come la posizione, ha due coordinate X per la coordinata orizzontale Y per la coordinata verticale Quindi io vado, vedete, a spostare il punto di ancoraggio Lo vado a posizionare in basso a sinistra Perché è quella di attenzione originale E notate fin da subito come si stia spostando il foglio intero Perché, lo vedremo tra poco Il punto di ancoraggio è strettamente correlato con la posizione Ma ne parleremo tra poco Perfetto Io adesso ho spostato il punto di ancoraggio in basso a sinistra Vado a spostare il centro al centro nuovamente il foglio E se adesso con il tasto R dalla tastiera Vado ad applicare una rotazione Vedete che il punto di ancoraggio fa sì che la mia rotazione avvenga Intorno a lui, insomma, al punto di ancoraggio Così come in questa semplicissima animazione manuale Che stiamo facendo, modificando semplicemente la rotazione Ecco, a questo serve il punto di ancoraggio Per quanto riguarda la rotazione Per decidere qual è il punto, come dice la parola stessa Di ancoraggio intorno a cui avviene l'animazione In questo caso la rotazione Ma attenzione perché il punto di ancoraggio in realtà È fondamentale anche e soprattutto per la posizione Perché è importante anche e soprattutto per la posizione? Perché risettando tutto e tornando al punto di partenza Abbiamo detto tante volte O meglio, l'abbiamo detto nella scorsa lezione Che per visualizzare la posizione di un elemento Basta premere il tasto P sulla tastiera Eccolo qua Tengo premuto il tasto Shift e premo il tasto A In questa maniera vedo contemporaneamente sia la posizione sia il punto di ancoraggio Bene, qui abbiamo dei valori Non abbiamo detto nulla nella scorsa lezione su questi valori Che che valori sono? Leggiamo punto di ancoraggio 320x180 E leggiamo posizione 640x360 Da cosa? 320 pixel da che cosa? Oppure per la posizione 640 pixel orizzontali da che cosa? Ecco, questo è molto importante Comprenderlo Parlando dell'ancoraggio Questi due valori si riferiscono Della distanza rispettivamente dal bordo sinistro del mio oggetto E dal bordo superiore del mio oggetto In altre parole Se io questi due valori li posizionassi a 0,0 Vedete che il punto di ancoraggio viene posizionato Nel punto 0,0 del mio oggetto foglio Ok? Quindi quando io modifico il punto di ancoraggio Dando un valore Nel caso di prima era mi sembra 320x180 Non sto facendo altro che dare delle coordinate A questo punto In base al bordo di sinistra E al bordo superiore Dell'oggetto a cui appartiene appunto il punto di ancoraggio Fantastico La posizione invece Da che cosa prende le sue coordinate Queste coordinate rispetto a cosa sono misurate Bene, facciamo un esempio Posizioniamo la coordinata x della posizione sul punto 0 E la coordinata y anche questa sul punto 0 Come potete vedere Le coordinate della posizione Fanno riferimento all'intera composizione Quindi questa composizione ha il suo punto 0,0 Che è qui in alto a sinistra E poi cresce andando verso destra la coordinata x E cresce andando verso il basso la coordinata y Vedete? Sto aumentando la coordinata y Aumento anche la coordinata x Ed è più o meno quello che ho detto prima Esattamente quello che ho detto prima In tutto questo cosa c'entra il punto di ancoraggio? Bene, se io portassi di nuovo la posizione al punto 0,0 Vedete che ad andare nell'angolino in alto a sinistra Non è l'oggetto intero Ma è l'oggetto calcolando quella posizione dal punto di ancoraggio In altre parole L'oggetto foglio bianco Si trova sulle coordinate 0,0 di tutta la composizione Chiaramente calcolando la posizione rispetto al punto di ancoraggio Quindi il punto di ancoraggio che si trova nel centro esatto del foglio Calcola anche, è responsabile anche della posizione del foglio Perché se io questo foglio lo riporto alla posizione 0,0 Ecco, si trova questo foglio nella posizione 0,0 Ma è il suo punto di ancoraggio che in realtà si trova nel punto 0,0 Dell'intera composizione Facciamo un altro esempio Abbiamo detto io voglio posizionare il mio punto di ancoraggio in basso a sinistra Posizioniamolo più o meno in basso a sinistra E adesso vado Anzi no, facciamo una cosa Posizioniamo questo punto di ancoraggio a sinistra ma in alto Eccoci qua Adesso vado a posizionare questo foglio nelle coordinate 0,0 E vedete adesso che questo foglio si allinea all'angolo superiore sinistro Esattamente nel punto 0,0 Perché il mio punto di ancoraggio si trova esattamente anche lui nel punto 0,0 Ma del foglio stesso Non so se sono stato chiaro È un concetto che una volta compreso in realtà è molto semplice Spiegarlo forse un po' meno Faccio un altro esempio così speriamo di far comprendere a tutti quello che sto dicendo Vado a posizionare il punto di ancoraggio nell'angolino in basso a sinistra di questo foglio Quindi vado a spostare tutto un pochettino così Sposto il punto di ancoraggio in basso Vedete che si sta muovendo il foglio Perché si sta muovendo? Perché la posizione di questo foglio viene calcolata in base al punto di ancoraggio Eccoci qua La posizione abbiamo detto che è settata 636 pixel per 314 pixel Rispetto al bordo sinistro e al bordo superiore Ma nel foglio quello che comanda il punto di ancoraggio Quindi il punto di ancoraggio si trova a questa distanza dalla composizione La prova è che se io vado a posizionare La posizione, perdonate il gioco di parole Vado a dare ai valori della posizione le coordinate Cominate 0, 0 Andiamo a vedere cosa è successo Eccolo qua Vedete che il mio foglio Adesso l'ingrandiamo nuovamente Questo poi lo vedremo meglio Come si ingrandisce una visuale nelle prossime lezioni Vedete che il mio foglio si è posizionato nel punto 0, 0 In base a dove si trovava il punto di ancoraggio Rispetto al foglio stesso Ok? Spero che con questo ultimo esempio Tutto sia più chiaro È importante comprenderlo Perché quando poi andremo a fare delle animazioni Il punto di ancoraggio in alcune animazioni e in alcuni effetti Giocherà un ruolo centrale Immaginate di voler ruotare un cubo O immaginate di voler sfogliare una pagina Dovete fare una rotazione, un movimento È in base a cosa muoviamo, in base a cosa ruotiamo, intorno a cosa ruotiamo Ecco, in base e intorno al punto di ancoraggio Ed è importante comprendere questo concetto Possiamo muovere il punto di ancoraggio come abbiamo fatto adesso Oppure possiamo fare una cosa molto molto semplice Che è premere il tasto Y sulla tastiera Vedete che viene attivato questo strumentino in alto sulla sinistra Leggete strumento sposta sotto Tra parentesi punto di ancoraggio Questo strumentino ci permette di cliccare sul punto di ancoraggio E posizionarlo manualmente dove vogliamo Plicchiamo ovviamente con il tasto sinistro del mouse Oh, attenzione, posso posizionare il punto di ancoraggio anche qui, anche fuori E non è troppo sbagliato come pensiero Faccio un esempio pratico Abbiamo questo foglio Io voglio spostare il punto di ancoraggio qui E se adesso vado ad applicare la rotazione La rotazione avverrà intorno al punto di ancoraggio Anche se il punto di ancoraggio si trova fuori dal mio oggetto Questo è importante Il punto di ancoraggio è vero che viene calcolato in base all'oggetto Ma può anche chiaramente stare fuori l'oggetto Ok? Attenzione, un'ultima cosa che vi dico prima di lasciarvi Quando premete il tasto Y sulla vostra tastiera Attivate appunto l'oggetto che vi permette di muovere il punto di ancoraggio Per tornare allo strumento selezione O cliccate su questa freccettina in alto a sinistra Oppure premete il tasto V V di Verona Sulla vostra tastiera E vedete che torna selezionata la vostra freccettina E tornate nella modalità selezione classica Tradizionale di After Effects Spero di essere stato chiaro Non era troppo semplice spiegare Questo concetto Oppure si era molto semplice Però credetemi Comprenderlo è importante Spiegarlo è abbastanza complesso Ma una volta che avete compreso bene cos'è il punto di ancoraggio E come funziona In futuro sicuramente molte problematiche Molte cose le farete in scioltezza Via Avete compreso un concetto importante di After Effects Nel prossimo video tutorial Inizieremo a parlare delle animazioni in Adobe After Effects Vedremo un po' come ho fatto io A creare l'animazione del foglio di carta che si muove Ok? Vedremo come applicare dei semplici keyframe Come ho fatto in questa animazione di esempio E vedremo come animare le nostre proprietà Per creare semplici animazioni Finalmente iniziamo ad entrare nel vivo Di questo software meraviglioso Che è Adobe After Effects Vi ricordo www.fabioambrosi.it Sito dove troverete ovviamente gli articoli di queste lezioni E l'indice con gli argomenti Iscrivetevi a questo canale YouTube Per non perdere anche i prossimi video tutorial Commentate questi video Se avete domande, perplessità O se siete già esperti di After Se volete contribuire dando qualche altra informazione Chiaramente tutti possiamo trarne beneficio La mia pagina Facebook Per avere tutte le informazioni anche sui prossimi corsi E i prossimi tutorial È Fabio Ambrosi Cercate la pagina Mettete un like E teniamoci in contatto anche su Facebook Grazie ancora Grazie, grazie, grazie Al prossimo video tutorial Ciao Ciao